Ciao ragazzi, sono Bluefire, voi siete nella BluefireTV e sono appena entrato in un Hide and Seek di Minecraft. Questa modalità consiste nel nascondersi velocemente e cercare di nascondersi il meglio possibile per non essere beccati dai tipi tosti con le spade in diamante. E vi potrete confondere usando un qualsiasi blocco, casualmente vi era dato un blocco a caso di Minecraft. Per entrare in questo serve, vi lascerò lì in descrizione, dovete andare verso la sezione Arcade e lì verrete trasportati in una zona in cui andando avanti potete vedere a grande schermo la scritta Hide and Seek. E lì dovete entrare e vi porterà in una stanza piena di cartelli. Wow, cosa sono? Ah, questa volta sono uno di quelli che deve colpire i blocchi. Andiamo a beccare un po' di cubi, di... come si chiamano quelli che si nascondono? Andiamo a beccare un po' di... mimetizzato... boh, ditemelo voi. Ehm, andiamo a beccare un po' di gente nascosta. Un po' di... ehm, vabbè, per entrare ci sarà una stanza piena di cartelli. Voi selezionate il cartello che... Periodicamente dei cartelli diventeranno di colore... Ehm, non... che colore diventeranno? Qui c'è qualcosa che non va. Però di sicuro... boh, chi lo sa. Una velo. Diventeranno di colore... Questa fornace puzza. Sì, infatti era finta! Sono vinte. I cartelli diventeranno di un colore diverso, vuol dire che il server si è appena suotato e voi potrete entrare. E ora proviamo. Qua c'è troppe di queste... di questi hopper e di command block anche... C'è qualcosa di finto. Sono finte! Chi è che suona? Oh, il vasetto si è rotto. Command block, tanti fornaci. Ehm... Stai arrivando, amico. Qua cosa ci sarà mai? Perché bisogna beccare il blocco falso. Venti falso. Di sicuro no. Il blocco, questo no, questo no. Ehi, ho visto muoversi qualcosa. Vai, non ti dico. Sarà qualcuno su porre le spalle? Boh. È difficile, eh, comunque. Cioè, si nascondono bene, magari, anche. C'è qualcosa che non va, però. Ehm... Uno spawner. Boh. Ehm... Sì. Quante... Dov'è? C'è un'altra uscita. Ah, eccola. E che saranno andati tutti di qua? Vuol dire che qualche bottone è falso? No. Boh. Cube di lana. Boh. Attenzione, spazio aperto. Wow, quanta roba qua. Cioè, ma è difficilissimo alla fine. Anche mi sembrava strano che... Wow. Ci sarà qualcuno... Nascosto male. Eccolo, una crafting. Wow. Sei morto, amico. Wow. Wow, ne abbiamo ucciso uno. No, il legno no. Stai fermo, legno. Wooden block. È difficile, cavolo. Non me l'aspettavo che fosse così difficile. Però è bellissimo uccidere i blocchi. Cioè, chi non avrebbe mai voluto colpire i blocchi di Minecraft ucciderli? Ok. Abbiamo ucciso un altro. Per ora non sono morto. Chissà come funziona. Cioè, ripiglio vita? I don't know. Quello lì continuerà a scappare in circolo. Andiamo a beccare qualcuno, tipo questo, che sicuramente... Uno di questi è finto. No. Quello me l'aspettavo finto. Ok. Mmm. I blocchi di Glowstone saranno imbeccabili. Di sicuro non è quello altri due, però. Questo viene, invece, che è staccato tutti gli altri. Boh. I pieni saranno difficili da prendere. Mmm. Non male, ragazzi. No, le TNT non le voglio accendere. Ma esplodono. Boh. Beh, di sicuro se c'è, tipo, una massa di librerie, che io le trovo tutte, magari uno che ha la libreria si è venuto a nascondere qua. Vedo, è stato fortunato. Wow, wow, wow. Boh, misteri. Dove capirlo. Andiamo a vedere l'ultimo in alto. Se fossero in alto è possibile, ecco, che quello lì sia un... Cosa? Perché è doppio. Oppure qua in basso. No. Boh. Mistero. È difficile. Proviamo a salire qua. Sono ancora in dieci. Ne abbiamo beccati tanti. Oh, ho beccato una crafting. Eccola. Dai, corri. C'è una crafting che corre. Mamma, quanto è veloce. Più veloce di me. Non avrai vita facile crafting, ti stai seguendo. Questo è finto. No. Eccola là. Continua a correre, io continuo a seguirla. Ma non posso fare il giro inverso, perché non si nasconde. Ah, ah. Sei quasi morta. Sei quasi morta crafting. Mi dispiace, amico. Ti ho ucciso. Ok. Quelli che saranno saliti saranno sopravvissuti, sicuro. Uh, vedo gente che cade. Oh, eccolo. Ne abbiamo visto un altro. Quanto siamo ganzi. Ma è finita. Bene, mi è davvero piaciuta questa modalità. Ve la consiglio. Fatevi in giro. Per entrare, ci sono questi cartelli che diventano così. Vuol dire che il gioco 10 sta per iniziare. Non sempre riuscirete ad entrare, perché veramente c'è una marea di gente che vuole giocare. Ora mi scrivo in Skype, vedo se riesco a giocare con qualcun altro. Bye bye. Al prossimo video. Lasciate un mi piace, un messaggio, un commento, quello che volete. Vi piace la modalità, ditemelo. Io continuerò a fare video. E bye bye. Ciao balli. Ciao balli.